Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Prima di iniziare vi ricordo che questa mattina ho pubblicato un video veramente speciale, un confronto fra Battlefield 1 e Call of Duty Infinite Warfare. Se ve lo siete perso correte subito a vederlo. Entriamo adesso nel vivo del video di oggi. Parleremo del quarto DLC ed eventualmente di un DLC Army. Perché? Perché il profilo Snapchat della Treyarch ha pubblicato ieri un'immagine molto interessante. La state vedendo e sembra essere a tutti gli effetti la katana di Takeo, quindi l'arma di uno dei personaggi più importanti della storia zombies della Treyarch. Perché la Treyarch ha pubblicato a sorpresa la katana di Takeo sul proprio profilo Snapchat? Su questa vicenda si sono aperti due rumors veramente molto interessanti. Da una parte questo potrebbe essere un teaser, quindi un'anteprima di quello che ci aspetta nel quarto DLC, quindi una nuova arma introdotta nel quarto, nell'ultimo contenuto di Call of Duty Black Ops 3. Dall'altra invece l'arrivo di quest'arma come arma da mischia, quindi come arma corpo a corpo nel multiplayer di Call of Duty Black Ops 3. Quindi un'arma che arriverebbe come DLC su Call of Duty Black Ops 3. Due rumors veramente molto interessanti che ci lasciano quindi con il fiato sospeso perché potrebbero essere veramente molto ma molto importanti. Qui sotto nei commenti fatemi sapere quale vi piace di più fra le due possibilità della katana all'interno del DLC 4 oppure la katana come DLC nel multiplayer di Call of Duty Black Ops 3. E nei prossimi giorni vi aggiornerò sulla vicenda e su questa immagine segreta svelata a sorpresa dalla Treyarch sul proprio profilo di Snapchat. Ci vediamo quindi con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie.